Lo scorso venerdì mattina facevo uscire l'ultimo video qui sul mio canale e parlavo di mercato nel panico dopodiché il venerdì stesso si trasformava in una giornata orribile quindi vi era una continuazione dei movimenti fortemente ribassisti tutti quanti i detracciamenti che avevo visto nella seduta precedente e mi era da sorridere pensando qui al commento di supersmodato2333 il quale un po' mi accusava di titolo clickbait, del tutto fuori luogo forse è il momento di disiscriversi dal canale io giustamente rispondevo se il mercato azionario va nel panico scrivo che va nel panico infatti era una giornata che si concludeva con meno 2-3 punti percentuali su tutti quanti gli indici anche oggi stiamo aprendo così e semplicemente lunedì in Giappone si è chiuso alla grande infatti sono riusciti in Giappone a fare un record storico che non ha mai visto quel paese ovvero il Nikkei in una singola seduta meno 12% una roba che non si vedeva dal 1987 quindi è riuscito questo indice a vivere i suoi massimi storici e passare appunto dai massimi storici a un mercato ufficialmente orso bearish in 3 settimane un mercato per essere orso deve registrare un drawdown rispetto a quando è iniziato comunque il movimento ribassista superiore al 20% ad esempio il 2022 è stato un anno pessimo per le borse e ci ricordiamo che abbiamo raggiunto questo valore ma ci è voluto quasi un anno cioè ci è voluto tutto quanto il 2022 se parliamo di S&P 500 ma anche di tanti altri indici qui invece il tutto è avvenuto in 3 settimane un movimento super violento e per certi versi ancora peggiore di quello pandemico difatti questo è un record superiore per quanto riguarda il Giappone al crollo a seguito di quello che accadeva nel 2020 detto ciò qui possiamo osservare l'andamento grafico ed è veramente sorprendente diciamo che questo movimento si può vedere su Bitcoin si può vedere su un singolo titolo azionario ma un intero indice degno di nota siamo parlando di uno degli indici più importanti del mondo stava segnalando grande forza negli ultimi anni veramente clamorosa questa cosa qui andiamo un po' a vedere quello che sta accadendo in Italia i vari indici che abbiamo stanno più o meno tutti quanti registrando un abbondante meno 3% si sfiora quasi il meno 4% per quanto riguarda l'Europa il DAX quindi parliamo della Germania meno 3.40 mentre sto registrando adesso il CAC 40 quindi parliamo della Francia meno 2.83 ora passiamo un po' all'America questo è il Nasdaq questo è il famoso ETF sul Nasdaq QQQ e guardate la chiusura di venerdì è l'ultima candela che vediamo qui a grafico io sto registrando pre-apertura e ho messo la freccia rossa per farvi intendere dove andrà ad aprire l'indice quindi anche qui nell'arco di 3 settimane diciamo dalla chiusura qui massima del massimo storico prendiamo qui la candela ecco la chiusura della stessa al momento dell'apertura del mercato nei prossimi minuti stiamo registrando sul Nasdaq un meno 15% e qui sull'S&P 500 se andiamo a misurare sta accadendo qualcosa di simile infatti in apertura dovremmo già registrare come drawdown un meno 10% quindi lo stiamo sfiorando per quanto riguarda il petrolio stiamo ai minimi degli ultimi 8 mesi quindi anche qui c'è stato un calo straordinario lo possiamo osservare a livello grafico andiamo ancora avanti lo stesso Bitcoin ha vissuto un vero e proprio crash stiamo osservando l'ETC che possiedo mi sembra registrasse questa mattina sommando i movimenti del weekend perché comunque il Bitcoin si muove anche durante il weekend sommando il tutto un meno 17% mi sembra stesse segnalando addirittura a un certo punto è andato sotto i 50.000 poi ha riprovato ad andare sopra vediamo quello che accadrà nelle prossime ore e qui possiamo osservare infatti il Bitcoin in questo momento 50.775 si è andato a mangiare in una manciata di sedute quindi oggi è il 5 agosto diciamo stava più o meno sperando i 70.000 e il 28 luglio in una settimana si è andato a mangiare tutto il movimento che era riuscito a fare praticamente da febbraio andiamo un po' a vedere anche i metalli preziosi non se la passano per nulla bene quindi scivolone dell'argento scivolone dell'oro quindi siamo nell'ordine del meno 3% ragazzi cosa sta avvenendo? quello che abbiamo vissuto sempre da quando qui sto sul canale ma che vivo personalmente senza raccontarlo prima di aprirlo il canale quindi ormai è aperto da quasi 5 anni ma la classica crisi di liquidità quindi cominciano a saltare le posizioni ci si comincia a ricoprire ci sono gli stop loss i richiami di margine tutti fuggono si cerca di comprare dollaro magari le obbligazioni insomma si osserva una crisi di liquidità sui mercati c'è proprio uno shock poi agosto è anche un mese poco liquido quindi se accade qualcosa i movimenti tendono ad essere molto violenti cioè un mese dove questo concetto può essere esteso al massimo non è il primo agosto infatti che passiamo così a livello storico non dico che è frequentissimo ma insomma accade abbastanza di frequento uno scenario del genere ma ora stiamo assistendo a movimenti davvero violenti e intensi ripeto un meno 12% sull'indice Nikkei e allora andiamo un po' avanti e qui l'unica cosa che sta salendo sono le obbligazioni investment grade in questo caso il solito TLT di riferimento che per noi è una sorta di benchmark per andarlo a studiare di riferimento parliamo dei treasury americani e come vedete in apertura dovrebbe continuare il movimento fortemente rialzista delle ultime sedute detto ciò cosa sta accadendo come mai questo delirio beh da una parte direi proprio che ragazzi il mercato mi stava preoccupando negli ultimi settimane negli ultimi mesi ne abbiamo parlato tantissime volte qui valutazioni altissime le quali non tenevano conto di nessuna problematica come se tutto quanto fosse perfetto e come se nel mondo non stesse accadendo nulla come se non ci fossero tensioni geopolitiche quasi da sfiorare la terza guerra mondiale se andiamo a fare l'elenco tutto quanto quello che sta accadendo e poi allo stesso tempo comunque vi erano alcuni segnali di indebolimento ma insomma alcune aziende importanti e altri segnali macro invece segnalavano un po' di forza quindi il mercato ha fatto finta di non vedere di sottovalutare eventuali problematiche e ha preferito continuare a correre poi quando i nodi sono venuti al pettine ragazzi più è stato eccezionale il movimento rialzista partito addirittura lo scorso ottobre e più quindi sarà eccezionale il crollo anche questo era ciò che andavo a temere e sono usciti dei dati macro fondamentali come il manifatturiero un vero e proprio tracollo l'ultimo dato è stato questo ci fornivano guardate la colonna qui a destra eclatante ragazzi quindi nessuno ci aspettava una roba del genere e allo stesso tempo la continuazione anzi l'accelerazione dell'aumento della disoccupazione e già quando dicevamo ragazzi qui comunque abbiamo raggiunto il 4% a livello psicologico vi ricordate io comunque credo che nei prossimi mesi la Fed taglierà i tassi bisognerà restire l'economia e qui in realtà è partito sta partendo e stiamo nel classico segnale di recessione quindi il mercato si è ricordato della regola di Sam ragazzi cosa ci dice che l'economia è recessione quando la media trimestrale del tasso di soccupazione è mezzo punto percentuale al di sopra del minimo degli ultimi 12 mesi e ve lo mostro qui a livello grafico magari mi sposto in alto a sinistra così lo potete osservare meglio eccolo qui il cerchietto stiamo partendo dal basso verso l'alto e non fallisce praticamente mai questo indicatore ma è normale se comincia ad aumentare la recessione se comincia ad aumentare la disoccupazione è difficile che vi sia una continuazione dell'espansione economica questo è ovvio proseguiamo ancora e un altro elemento ad esempio può voler tutto e voler dire niente può essere solo una casualità non dobbiamo mai copiarlo è tutta un'altra storia rispetto a noi poveri retailer ragazzi ma in ogni caso Warren Buffett ha dimezzato la sua partecipazione in Apple è uscito anche nei giorni scorsi da Bank of America insomma ha fatto delle vendite su quel titolo voglio dire nel recentissimo passato ha accumulato ulteriori liquidità e ha preso ha chiuso delle parti di alcune posizioni ha cercato di prendere profitto e adesso la liquidità è diventata ancora più gigantesca e insomma diciamo che il mercato valda ogni cosa quindi quando vuole essere felice positivo e avido si concentra solo sugli aspetti positivi quando invece comincia a mettersi paura si concentra solo su quelli negativi e va ad osservare ogni singolo aspetto in tal senso in tutto ciò Powell niente ha la dormita della Fed ma vedremo metteremo sul tavolo forse se ci va a settembre il taglio dei tassi se questa è la reazione della Fed rispetto a tutto quanto quello a cui stiamo assistendo capite bene che il circolo vizioso poi esplode negativamente e inoltre i mercati diciamo dalla crisi del 2008 che sono coccolate dalla Fed quando mamma Fed scompare insomma il bimbo inizia a piangere e a disperarsi e lo stiamo vedendo ora io mi aspetto lo dico da tempo non solo il taglio dei tassi ma mi aspetto all'improvviso un'accelerazione quindi il correre a ripari temevo che la Fed e Powell potessero fare il classico errore che abbiamo sempre visto quindi quello di agire in maniera tardiva e quindi vi ricordate no ma l'inflazione non è un grande problema e poi giù a botte di rialzi ogni riunione della FONC ogni singola riunione si alzavano i tassi stavano praticamente a zero ci siamo ritrovati in un anno o poco più insomma giù di lì a 5,25 5,50 come tassi e come ambiente no quindi io adesso cosa mi aspetto quello che è sempre accaduto a livello storico e statistico per questo mi ero nei giorni sì nei giorni nei mesi scorsi addirittura ormai saranno passati tanti tanti mesi comunque mi ero già messo a favore di questa situazione come vi dicevo è sempre accaduto a livello storico e poi a un certo punto bisogna tagliare i tassi e nelle ultime epoche storiche lo si è fatto sempre con forza perché dovrebbe essere diverso questa volta le obbligazioni rendono tanto mi riempio di investment grade governative che sono anche con un bel po' di duration sono sensibili a queste situazioni eventualmente ne andrò a beneficiare e io sono abbastanza convinto e fiducioso non vi posso dire che accadrà per forza a mio mi aspetto a un certo punto non solo un meno 0,25 ma un meno 0,50 magari tutto quanto insieme non solo uno due tagli come quelle che erano le prospettive ma li cominciamo a tagliare e non finiamo più finché non arriviamo all'uno e mezzo all'uno per cento allo zero per cento e per sostenere l'economia io non mi stupirei di tutto quanto questo discorso cosa vi sto mostrando con il rendimento delle obbligazioni a due anni e in questi giorni sta precipitando e vi ricordate come il rendimento qui lo stiamo vedendo con la linea blu rispetto ai tassi decisi dalla Fed fosse partito prima? cioè il mercato obbligazionario le scadenze a due anni riescono ad anticipare molto bene quello che poi dovrà fare la Fed e si muovono nei tempi giusti cioè è un mercato che si muove in maniera giusta con i tempi e anticipa sempre la Fed guardate come si sta portando giù il rendimento guardate che differenza che c'è anche l'inflazione sembrerebbe destinata comunque a continuare a crollare sempre di più e andare addirittura non solo al 2% ma al di sotto di questo valore perché andatevi a fare delle ricerche di quello che sta accadendo negli alloggi in America nei prezzi nelle compravendite e andatevi a leggere il peso che c'è degli alloggi dell'immobiliare sull'indice dell'inflazione americano inoltre abbiamo visto adesso che sta crollando qualunque cosa questo si potrebbe riflettere prossimamente nei prossimi dati non è più un problema il problema è un altro quindi adesso vi è una differenza enorme fra l'ambiente tassi di interesse della Fed i rendimenti obbligazionari e l'inflazione cioè uno spread una differenza gigantesca sono altissimi fra poco questi tassi rispetto a questa nuova realtà che si sta configurando ora andiamo a vedere infatti questa differenza ragazzi dove mi sposto qua in basso a sinistra così ve lo faccio vedere meglio io sto mettendo con questo grafico in relazione il mercato ok del rendimento dei treasury a due anni come scadenza e poi il rapporto è costruito con i federal funds quindi i classici tassi indicati dalla Fed decisi dalla Fed guardate quando qui andiamo sotto lo zero con prepotenza cosa è successo poi dopo vedete dove ci troviamo adesso guardate il passato 2020 vedete qua guardate qua il 2008 vi devo spiegare qualcosa no? 2007 poi è scattata una recessione e questa è la grande crisi finanziaria che ha caratterizzato i nostri tempi guardate anche qui alla fine degli anni 90 inizio 2000 le colonne grigie sono le recessioni siamo sugli stessi livelli sta accadendo la medesima cosa guardate qui i fini anni 80 la storia si ripete ragazzi il mercato è ciclico ci sono delle eccezioni che confermano regola ma sono eccezioni vogliamo operare solamente a favore delle eccezioni vogliamo ragionare solo concentrandosi concentrandoci sulle eccezioni su delle nostre convinzioni particolari oppure vogliamo basarci su quella che è la statistica la storia quelli che sono i cicli di mercato perché tanto facciamo una cosa o facciamo l'altra a voi la risposta adesso senza andare nel panico perché io non sto assolutissimamente nel panico e vi dirò anche una cosa sono molto contento di quello che sta accadendo c'è Gianluca sei completamente pazzo no perché comunque il mio patrimonio non so sarà sceso di 4-5 punti percentuali solo in queste poche sedute e quindi non è che dovrei esultare ma sta guarendo il mercato sta guarendo per me stavamo viaggiando su dei multipli estremamente alti sui mercati soprattutto se ragioniamo sull'S&P 500 sul Nasdaq rispetto a quelle che erano le condizioni e le prospettive e quindi finalmente viviamo il principio della regressione alla media siccome comunque sono cresciuti tanto in maniera eccessiva è normale che poi si arrivano delle notizie negative se magari iniziamo anche a scontare un po' di recessione il ritracciamento si trasforma in un crollo in un crollo si possa trasformare in un mercato ribassista no? supera il 20% è fisiologico è normale lo metto in conto è giusto che sia così se avesse ritardato ulteriormente non so quello che sarebbe poi accaduto in futuro non so quanto sarebbe stata la violenza del mercato quindi adesso andiamo un po' a vedere il declino dell'S&P 500 a livello storico con le colonne azzurre ragazzi sono sempre accaduti sono sempre verificati vedete qua febbraio 2020 meno 33.9% abbiamo 12 anni 2000 un meno 49.1 abbiamo avuto qui fra il 2007 e il 2009 addirittura un meno 56 come declino e comunque nel secolo scorso ne abbiamo visti di meno 20 meno 30 in questo caso qui non è indicato ancora non è aggiornato al 2022 ma anche nel 2022 abbiamo visto un abbondante meno 20% qui mi posso spostare su questo grafico il quale ha una risoluzione molto bassa ma potete vedere i periodi bullish con le aree quelle blu scuro e i periodi bearish con quindi bear market i mercati ribassisti con le aree quelle colorate in giallo come vedete la maggior parte del tempo il mercato si trova almeno l'S&P 500 e poi si traccina comunque anche indici mondiali e si trova in una situazione positiva in una situazione di crescita e quindi questo consente all'indice stesso di poter mantenere delle medie annualizzate molto interessanti nell'ordine del 10% all'orto dell'inflazione tuttavia è chiaro che vi sono delle pause che assolutamente coincidono con problemi gravi recessioni e cose simili i movimenti magari nelle fasi ribassiste possono essere molto violenti questi movimenti ma diciamo sono dei periodi non così prolungati ritornando indietro vediamo ad esempio nel nostro secolo quindi diciamo i mercati un po' più contemporanei beh quanto ci è voluto per recuperare la perda anzi quanto è durato il bear market nel 2020 ragazzi è durato un mese nel 2022 è una manciata dei trimestri durato più o meno quell'anno lì poi comunque ha cominciato a recuperare nel 2023 e qui non ho il dato esatto dei mesi ma se andiamo a vedere ad esempio la crisi finanziaria del 2008 17 mesi nel 2031 mesi quindi abbiamo già un'idea di quanto possa durare un mercato ribassista nel secolo scorso dal 56 diciamo quindi la seconda età del secolo scorso quindi è chiaro qui stiamo evitando crisi del 29 eccetera però ci avviciniamo anche ai nostri tempi perché quella è un'epoca davvero molto lontana anche per gli strumenti rispetto agli strumenti che ad esempio ci sono oggi per sostenere eventualmente proprio in maniera artificiale i mercati stessi come è accaduto comunque in passato comunque vedete qui meno 15 mesi 18 mesi 21 mesi quindi possiamo dire che alla fine nel momento in cui si scatenasse un vero mercato ribassista ci possiamo aspettare di movimenti continuativi in tal senso di 12 18 mesi quanto ci è voluto per recuperare quindi dal massimo precedente quindi tutto quanto il drawdown e poi ritornare su quanto tempo ci è trascorso quanti mesi ci sono voluti ma nel 2020 è stato velocissimo solo 5 mesi lo vediamo qui dalle colonne questa arancione ma nella crisi finanziata del 2008 poi ci sono avuti 49 mesi all'inizio degli anni 2000 con la bolla .com 56 mesi quindi ci può poter anche qualche anno il recupero il recupero può essere velocissimo 3 mesi 4 mesi 5 mesi non sappiamo mai se possa accadere un qualcosa del genere di fronte a noi oppure ragazzi può essere più difficoltosa la situazione ci può poter anche qualche anno e questo bisogna metterlo in conto eppure vedo io che si sottovaluta si tende a sottovalutare questo aspetto ma in ogni caso il mercato poi almeno un indice efficiente ha sempre recuperato quindi basiamoci anche su questo prima si crea un problema prima viene un ritracciamento prima viene un mercato ribassista e prima poi potremo rivivere di nuovo un ciclo rialzista ora come mi sto comportando ve lo dico sono molto tranquillo e poi chiuderò anche andandovi a descrivere quell'eccezione che conferma la regola semplicemente ragazzi ho la mia accumulazione continuativa quindi continuo a comprare come prima non sto cambiando la regola non devo comprare di più in questo momento perché ho visto qualche sedota estremamente rossa brutta non devo cercare di fare market timing uscire cercare di rientrare domani anche perché poi c'è un altro fenomeno ragazzi che le giornate allello storico realziste più importanti hanno sempre fatto seguito a quelle più negative quindi può darsi anche che domani faccia meno 5 in nikai poi meno 3 meno 4 ma può darsi che da domani compreso in po' nei prossimi giorni nei prossimi seduti all'improvviso faccia un più 10 e quindi poi che facciamo quando rientriamo quindi rientrare riuscire è un è un gran disastro bisogna portare avanti dei progetti molto più tranquilli come l'accumulazione da una parte poi sapete dall'altra la mia asset allocation era diventata più bilanciata quindi se ho fatto questa scelta anche grazie comunque ragazzi a soldi in più che sono arrivati perché io quando vi dico lo scorso ottobre sono diventato più prudente io non ho venduto niente della nazionale nulla ho venduto ho semplicemente comprato soprattutto obbligazioni oro insomma per costruire un portafoglio più bilanciato più diversificato per difendermi anche da fasi come questa che sta accadendo adesso e quindi cosa dovrò fare poi sarà giusto senza fare market timing a ottobre cercare di ribilanciare un po' quindi vedremo quello che sarà successo nel caso in cui vivessimo un trimestre disastroso come lo scorso anno vi ricordate agosto settembre ottobre terribile magari potrebbe accadere anche adesso io in quel caso se le obbligazioni avranno continuato a correre verso l'alto quello che mi aspetto il mercato azionario ha corso tanto tanto verso il basso e allora la farò ribilancerò in maniera naturale compierò l'azionario a sconto e magari prenderò qualche presa di profitto sull'obbligazionario se credo che l'obbligazione possa crescere ancora verso l'alto vedo se ho magari un po' di liquidità non investita potrei utilizzare quella per comprare le azioni senza rinunciare ancora all'obbligazionario ovviamente ognuno ragazzi si fa i conti con le proprie tasche però si cerca di ribilanciare il famoso ribilanciamento che c'è che uno fa di anno in anno dopodiché questo è un po' che vi sto mostrando ragazzi il sentimento bullish questo per me rappresenta un po' una sorta di indicatore dove cerco di fare qualcosina in più un po' l'eccezione che conferma la regola ma c'è in realtà qui una regola ovvero io comunque cerco di portare avanti i miei piani di accumulo il più possibile al massimo posso sospendere un momento perché i mesi precedenti avevo fatto degli acquisti extra di cui adesso vi parlo ma cerco di portarlo avanti il più possibile se ho un asset allocation poi cerco comunque di ribilanciare un po' laddove serve o magari scelto una determinata tipologia di asset allocation quando serve ma questo indicatore io ve lo racconto da quando ho aperto il canale non si sbaglia mai ragazzi non ci può dire la data ma il periodo lo prende sempre i più attenti di voi se lo ricorderanno io lo menziono ogni due mesi lo menziono ne abbiamo parlato una mesata fa dico ragazzi qualcuno di voi mi ha detto ma no ti pare che ti basi sul sentiment si funziona molto meglio funziona assai meglio degli indicatori tecnici ragazzi perché qui si parla sempre solo di matematica e io non so perché si sottovalidi tanto la psicologia umana invece la psicologia la fa da padrona nei mercati bisogna essere sintonizzati nella psicologia degli esseri umani i mercati sono tantissimo guidati dalla psicologia non è soltanto una questione di mercato efficiente che va a scontare tutte quante le problematiche no io credo un'efficienza di mercati che posso questa può essere un'espressione di lungo termine e poi quindi se l'economia mondiale sarà cresciuta se le grandi aziende che guidano gli indici più importanti saranno cresciute questo ce lo ritroveremo fra tanti anni i nostri soldi i nostri risparmi se abbiamo investito in questi indici saranno cresciuti ok c'è tutta quanta questa tipologia di efficienza ma detto ciò è pieno di finestre temporali totalmente inefficienti perché di subentra la psicologia ovvero il sentiment degli esseri umani ossia avidità e panico possibile che uno ancora non abbia capito questo vi sto mostrando il sentiment bullish il sentiment degli investitori guardate un po' se trovate delle congruenze se trovate delle corrispondenze quando il sentiment bullish è sotto le scarpe di solito siamo vicini al bottom quando siamo su valori bassissimi lo vedete qui il valore di 20 quando raggiungiamo andiamo appena al di sotto di 20 il bottom di mercato solitamente è vicino magari siamo in anticipo di 1-2-3 mesi magari siamo nell'epoca attorno al bottom ok allo stesso tempo quando questo indicatore sta sopra 50 il rischio di risracciamento è imminente non significa che bisogna uscire dal mercato anche perché il market timing nel mercato azionario è facile farlo lato ribassista ovvero è successa una catastrofe sull'S&P 500 è successa una catastrofe sull'MSC World veniamo da un meno 30 meno 40 meno 50 non sapremo quale sarà il bottom ma lì è facile fare il market timing sarà sempre sarà sempre una buonissima idea andare a comprare ok l'indice stesso è molto più difficile farlo quando cresce perché a volte continua a crescere e a crescere ancora e a crescere ancora nuovi massimi nuovi massimi eccetera 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 e tanta avidità e le aziende che vanno bene lo sappiamo quindi è molto difficile su quel lato e poi che facciamo usciamo e quando rientriamo e poi paghiamo dei capital gain quindi io cerco sempre di evitarlo tuttavia vado ad attenzionare anche i livelli bullish molto importanti altissimi perché potrei scegliere di essere più prudente magari rallentare un minimo se stavo spingendo sull'acceleratore quel piano di accumulo e magari potrebbe essere il momento giusto laddove necessitavo essere un po' più conservativo voglio dire anche magari diamine sono anni che decido un asset allocation di un certo tipo forse questo è il momento oppure semplicemente vi sto facendo tutti quanti degli esempi perché attenzionarlo prepararsi anche a livello psicologico a livello mentale oppure perché attenzionarlo per evitare l'abilità quindi per quello serve non tanto per il market time che ho fuggito dal mercato ma per capire diamine siamo troppo inabilità attendiamoci qualcosa prepariamoci voglio essere pronto e essere pronti a livello mentale è importantissimo perché ci va a ridurre gli errori tantissimi errori gli errori quando si fanno gli errori si fanno soprattutto quando il mercato è in avidità o quando il mercato sta in totale panico la maggior parte degli errori si fanno in questi periodi quindi grande errore quando si fa si fa a dicembre del 2022 si fa a marzo del 2020 oppure un grande errore si fa a luglio del 2024 quando qualcuno magari dice ragazzi attenzione non può andare sempre così no non capisci niente la tecnologia dell'intelligenza artificiale to the moon va bene schiantati male questo accade quindi serve anche per contenere quelle che sono le emozioni quello che è il sentiment ve lo volevo ripetere ripeto le stesse cose dal 2019 continuano a funzionare ragazzi quindi perché sottovalutare la psicologia dell'essere umano se continua a funzionare bene ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti e ah e perché potrebbe essere un'eccezione potrebbe essere un'eccezione soprattutto questo indicatore lato diciamo bearish quando il bullish va al minimo se io qui mi ritrovo a 20 ok e tutti qua parlano della fine del mondo no l'S&P 500 a meno 40 questa volta è diverso è finita è vero che io avrò fatto il mio ribilanciamento è vero che avrò portato avanti un po' la mia accumulazione tutta la mia programmazione ma quando sta qui a 20 a meno 20 ok mi trovo in quella situazione dico Gianluca non è che possiamo andare a raschiare il fondo del barile del salvadanaio dei risparmi ho qualcosa proprio che penso che mi possa servire troviamo liquidità bam entriamo su indici importanti quindi extra acquisti eccezioni che confedono la regola è stata sempre una buona idea ma quel lato lì io non vi sto dicendo che lo dovete fare vi sto dicendo quella che è la mia programmazione quello che voglio fare io mi sento molto tranquillo perché ormai ho vissuto queste cose un miliardo di volte e non vedo perché mi debba agitare anche perché tutte le volte in realtà è la stessa storia perché le persone ragazzi si mettono a paura e pensano che questa volta è diverso perché magari c'è il singolo motivo scatenante che può essere differente ma la ciclicità poi è sempre quella una volta la pandemia una volta la Lehman Brothers una volta la .com una volta è l'aumento di tassi di interesse incredibile una volta una volta una volta ma poi la ciclicità è sempre quella può essere più o meno intensa più o meno prolungata ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ringrazio per essere ati fino a qui se mi volete sostenere qui su youtube se volete far crescere questo messaggio ok che vi ho portato ad esempio anche oggi questa descrizione lo sapete vi iscrivete al canale lasciate un bel like io vi do appuntamento apprestissimo nel frattempo cosa vi avvo il meglio nella vita e gli investimenti ciao ragazzi